Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video! Io sono XIUDER! Io la pamina! Ragazzi, pronti! Ibrido fase 3 ragazzi! Sbloccato alla fase 3, ibrido comincia a diventare super super violento. Come ti sembra? Cosa vuol dire? Ma cosa? Andiamo a vederlo, andiamo a vederlo. Andiamo a vederlo. Guardalo qua. Insomma, prima era già, prima era il significante. Guardalo qua. Verde. Come mi sembra ragazzi? Minca, è ibrido, è ibrido verde. Non stiamo in live, stiamo registrando un video. Mentre te mettono nei commenti, ciula. Ah, nei commenti. È sempre un solito ciula lui. Nei commenti ragazzi, veramente super cattivo. Come mi sembra? È un match della trasformazione. Tanta, tanta roba. Beh ragazzi, come dice la Pammi, qua nei commenti, come vi sembra? Grazie per aver guardato questo video. Noi ci vediamo presto! Ciao! Noi ci vediamo presto! 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 Grazie.